Gli evangelisti fanno quello che possono nell'intento di raccontarci la risurrezione di Gesù. È un fatto troppo diverso da quelli che cadono sotto la nostra esperienza concreta. Troviamo quasi dei balbetti, però vediamo anche lo sforzo e il desiderio di comunicare questo avvenimento straordinario che è la risurrezione di Gesù. Nella scorsa notte, nella grande liturgia della Veglia Pasquale, si proclama il Vangelo secondo i Sinottici e Matteo ci ha raccontato delle donne che vanno al sepolcro, lo trovano vuoto, ricevono dall'angelo l'annuncio che Gesù è risorto e poi, mentre tornano a casa impaurite, hanno la gioia di vedere il Signore, di abbracciarlo ai piedi. Ricevendo da lui l'invito, andate ad annunciare ai miei fratelli, anche essi potranno vedermi in Galilea. Nella messa di oggi, del giorno di Pasqua, ricordiamo anche, credo, una delle messe ancora più frequentate della nostra gente, anche da chi non va solitamente in Chiesa, c'è un racconto più scarno. Secondo Giovanni si dice che, ricevendo l'annuncio da Maria Maddalena, due discepoli si mettono a correre e vanno a verificare che il sepolcro di fatto è vuoto. Ecco, undici hanno ricevuto l'annuncio, ma solo due si sono mossi e lo fanno insieme e lo fanno correndo. A me piace molto questo piccolo racconto, mi sembra una bellissima immagine anche della vita cristiana, dell'esperienza di fede. Abbiamo ricevuto un annuncio e quell'annuncio ci ha fatto alzare e ci ha messi in corsa. San Paolo userà questa espressione proprio per descrivere la vita cristiana. Noi corriamo come fanno gli atleti allo stadio e lo facciamo avendo una meta. Ecco, è bellissima questa immagine, ricordo anche come è stata rappresentata da un pittore, lo sguardo teso di questi due, pieno di dubbio, di apprezzione, ma soprattutto anche di gioia, di speranza. Corrono, vanno e verificano che è vero quello che hanno detto le donne. C'è una tomba vuota, ci sono anche i tele che avevano avvolto il corpo del Signore messi da parte. Certo è qualcosa di troppo poco e non è per causa della tomba vuota che si può immediatamente affermare che Gesù è risorto. Eppure entrano e credono, o meglio potremmo dire cominciano a credere. È un segno grande che il Signore non è più lì, che non è rimasto vittima della morte. Ancora si corre in due, non da sole. Ecco, c'è un embrione di comunità cristiana, si corre insieme agli altri e ci si sostiene nella fede. Ed è anche bellissimo il gesto di Giovanni, che è il più giovane dei due, che arriva per primo, corre più veloce, arriva per primo al sepolcro, però si ferma ed aspetta l'altro, Pietro, un po' più anziano che sta arrivando. Un altro bel segno, un'altra bella immagine della comunità cristiana, il luogo in cui ci si aspetta e ci si aiuta davvero a credere. Vorrei richiamare le parole di Papa Francesco con cui conclude la bella esortazione rivolta ai giovani dopo il Sinodo, dice così, proprio richiamando questo Vangelo. Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte, attratti da quel volto tanto amato, che adoriamo nella Santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno. E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci.